Buonasera, buonasera a tutti, ciao ciao, oggi 8 marzo, festa della donna, che siamo qua al Fanar, il posto migliore in tutto Charme Chic, per vedere il terremoto, va presente i miei amici che sono con me sempre questa settimana, ciao, ciao, fa vedere il terremoto, bellissimo, venite tutta Charme ragazzi, lo aspettiamo qua, grazie, anche se non amo Stafino, tutto bravo, siamo tutti bravi qua a Charme Chic, ciao, 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 No? Charme ci sta bene ragazzi, riesco qua ci sono Napolitano e più Egiziani, qui ci sono, io oggi, il venerdì, sappete che metto sempre, la calabella si chiama, che è fatto la berliere oggi, grazie, Allahu Akbar Grazie a tutti.